cosa c'è di più piacevole la domenica mattina di una bella colazione con calma dopo una settimana di lavoro e poi uscire per una passeggiata un po' di svago era questa l'intenzione di una coppia di giovani ragazzi di Cucurano domenica scorsa partenza pronti via, si monta in auto, si mette in moto ma la macchina, ingranata la prima, non ne vuole sapere di muoversi allora si scende dall'auto, un breve controllo e si fa la mara scoperta l'hanno tagliata con un coltello, tutte e quattro e ci siamo ritrovati in questa situazione un bel danno, un bel danno perché saranno 50-60 euro a gomma, potete capire il danno ammonta a diverse centinaia di euro dato che le gomme sono da sostituire ex novo poiché i tagli netti della lama nella spalla dello pneumatico non consentono alcun tipo di riparazione ora saranno le indagini per scoprire chi con dolo e volontà ha voluto danneggiare l'auto dei due ragazzi forse anche con l'aiuto di qualche testimone, se ci fosse, che sperano, un po' sconsolati i proprietari si faccia avanti quanto prima se ci fosse qualcuno che ha visto qualcosa qua nella via in via del Pietrisco 11b ha visto dei movimenti sospetti di sabato sera, sabato notte perché domenica mattina alle 8 erano già state viste a terra quindi è successo nella notte se qualcuno ha visto qualcosa, qualche movimento particolare, strano si faccia avanti anche perché sono state tagliate proprio con un coltello grazie